Dai 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 Mostrami la pietra delle Sarebbe meglio non raccoglio le Ah, due a bieterni Oh Oh Ma adesso c'è la parte con lui cosi questa mi ricordo che ero quasi sempre neanche io non ho schifo questa parte o meglio 3 ok ho finito tu hai già usato l'alcolta? nooo perchè questo è molto più scarso di quello che prima anche quella lì è molto evidente anche io che arrivano non c'è 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 non c'è